Da Gela, il polo industriale più sud dell'Europa, Transfigure Youth Italia, Sotir, l'associazione italiana imprese di trasporto, ha lanciato l'ultima chiamata all'Italia e all'Europa. Contro la crisi dei mercati e la concorrenza internazionale, la Sicilia sia hub del Mediterraneo. Una vera piattaforma intermodale con strade, autostrade, ferrovie, porti, aeroporti, crocevia dei mercati dell'Europa che guardino ai paesi frontalieri e alle economie emergenti. Sono i temi che sono stati affrontati nei locali dell'hotel Peretti in occasione del convegno nazionale. Il sottosegretario dei trasporti, Simona Vicari. Il tavolo dell'autotrasporto è stato riconvocato per giorno 1. Sarà un momento di confronto quasi definitivo perché il governo sta puntando moltissimo sulle intermodalità, sullo sviluppo delle nostre infrastrutture, sui sistemi portuali. Abbiamo incentivi che riguardano lo spostamento delle merci dalla gomma al mare, che sono destinati per circa il 70% tutti i latotrasportatori. Incentivi per chi sposta dalla gomma al ferro e quindi alle ferrovie, a chi investe in mezzi assolutamente più ecologici, chi investe in informazione. La Sicilia, in tutto il mondo, anche in Italia, è vista come una grande occasione. La Sicilia è un hub nel Mediterraneo assolutamente naturale. Siamo a Gela, non a caso, per dare un significato importante anche di consapevolezza a questo territorio. Credo che la politica regionale sia stata abbastanza sorda e abbia trascurato invece tutta una serie di attività legate alle infrastrutture. Costo del lavoro, concorrenza estera e carenze di infrastrutture. Ne ha parlato il segretario nazionale della SOTIR Claudio Donati. Io credo che questo settore ha bisogno di regole che in parte ci sono, in parte vanno riscritte, ma anche per le regole che ci sono poi occorre che vengano fatte rispettare, non solo per i trasportatori, ma anche per chi con i trasportatori lavora, intendo la committenza. Quindi ci aspettiamo che il Governo, lo Stato, non rimanga sostanzialmente inerte come molto spesso succede, ma faccia un po' una scelta di campo nel senso di assicurare che le regole che vengono richieste a tutti, a partire dai trasportatori, vengano richieste, il rispetto delle regole venga assicurato anche da chi dà il lavoro agli autotrasportatori, che spesso viene contrattato e definito a condizioni francamente oltre la legalità.